Non so cosa voglia dire questa seconda ipotesi, credo che non la sappia nessuno. Io sto assolutamente sul lavoro che stiamo facendo, perché, ripeto, credo di aver messo le diverse forze politiche in condizione di valutare e di valutare con la comprensione finalmente, perché questo è successo in queste ore, poi ognuno deciderà, ma con la comprensione finalmente che il mio sforzo è uno sforzo responsabile, uno sforzo fazioso. Quindi io sto a questo tracciato e non penso ad altro. Vedremo poi ogni giorno la sua pena, naturalmente. Posto? Ok. Grazie. Grazie. Grazie.